La prima lettura di oggi è molto suggestiva, una specie di cantilena memorizzabile. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per uccidere, un tempo per curare, un tempo per piangere, un tempo per ridere. È una pagina molto realistica. Nella vita effettivamente c'è tutto questo, perfino il tempo per uccidere, non solo per curare. Dunque è una pagina realistica ma è drammatica perché Coelet dice chiaro che gli uomini non possono trovare la ragione di tutto questo. Ma allora che fare? C'è qualcuno che dice ma allora le cose non hanno un senso. Invece c'è chi legge tutta la pagina di Coelet e dice, però Coelet dice anche che Dio ha fatto bella ogni cosa. E poi dice anche che l'uomo ha nel cuore la durata dei tempi, che è come dire un po' per volta capirai tante cose. E se non le capisci sappi che Dio di sicuro non ha schiappinato niente, ha fatto bene ogni cosa. Anche quando per noi è misteriosa diciamo la creazione di Dio è bella e buona. Io mi fido ciecamente del Signore.